La sfida per il clima non è un gioco facile, ma è un gioco di squadra. Il 26 marzo parteciperemo anche a noi alla mobilitazione globale del VUF per il clima. Alle 20 e 30 le luci dei monumenti più importanti al mondo si spegneranno simbolicamente per un'ora. Prendi parte anche tu alla mobilitazione per il clima e mettici la faccia. Io cerco di ridurre al massimo gli sprechi in casa, abbassando le temperature del termosifone in inverno e spegnendo le luci non necessarie. Per ridurre il consumo di plastica io porto sempre con me la mia borraccia. Io ad esempio preferisco muovermi a piedi o in bici, mi godo la natura e la città e risparmio CO2. Utilizzo lo shopper invece delle buste di plastica per fare la spesa. Scarica l'app Climat World del VUF e in bianco selfie. Prendi parte anche tu alla mobilitazione per il clima e mettici la faccia. Grazie. 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 Grazie a tutti